Ciao ragazzi bentornati a tutti in questo nuovo video Oggi vedremo la nuova sfida che hanno messo sull'arena Faccio prima un breve tutorial Tanto per spiegarvi più o meno come attaccarlo E poi vediamo la cosa Dobbiamo prima di tutto togliere i tre archi X Ma attenzione che ci sono le tesle davanti Quindi prima tirate giù le tesle Tirate giù poi gli archi X Per ogni arco X bastano tre super mongolfiere Altrimenti potete mettere anche una quarta Poi dopodiché nel frattempo che gli archi X vanno giù Dobbiamo togliere di mezzo tutta questa zona qui Per fare entrare i nostri goblin E tirare giù il municipio Aiutandoci con i goblin I super goblin possibilmente Metteremo poi L'invisibilità Anzi perché è l'unica Verso la zona centrale Più o meno qui Per fare in modo che I super goblin si sono invisibili Ma comunque È un po' lungo il percorso Quindi potrebbero finire il loro effetto Quindi nel dubbio ci mettiamo l'invisibilità Dopodiché nel frattempo Mettiamo qui la nostra macchina Che inizierà a pulire tutta questa zona che è rimasta E aiuteremo con il nostro volume di ghiaccio E la campionessa Passiamo direttamente al video Buona visione E aiuteremo con il nostro video E aiuteremo con il nostro video Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inoltre, in descrizione troverete diversi link per quanto riguarda l'affiliazione Amazon. Magari dateci un'occhiata. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!